Dalle 14 di ieri il fenomeno del Marrobbio si è scatenato su Mazzara del Vallo e conseguentemente abbiamo già detto nel servizio precedente anche su Tonnarello. Accanto a me uno dei proprietari di uno dei lidi di Tonnarello, quali sono stati i disagi che ha provocato il Marrobbio anche su Tonnarello? Come potete vedere abbiamo avuto un accumulo abbastanza notevole di Poseidonia Oceanica, parecchio disagio per le persone che c'erano all'interno perché hanno avuto paura e timore perché è stato un fenomeno abbastanza rilevante. L'acqua è andata via più volte durante l'arco della giornata fino al livello delle boe, della secca, quindi le persone si sono un po' intimorite, hanno avuto un po' di paura. Però per il resto abbastanza il disagio, il disagio perché è un mare di Poseidonia, è un mare che è riuscito a entrare fino a quasi dentro la struttura e poi niente, non si è visto nessuno, né protezione civile né qualcuno del comune magari è venuto a chiedere cosa è successo. Per adesso stiamo cercando di sistemare per togliere il disagio alle persone, magari per i clienti che vogliono venire al mare, si aspetta un bel tempo. Voi già state cominciando a pulire, però fino a pochi minuti fa, lo abbiamo filmato, mentre eravamo qui c'è stata un'altra secca e un altro ritorno, anche se in maniera più ridotta rispetto a ieri. Secondo lei c'è il rischio di un ritorno delle alghe come ieri? Penso di sì perché dall'altra parte, dalla colmata, il mare è riuscito a entrare, quindi ci sarà tutta questa posizione, ma per adesso è in acqua. Quindi il mare per adesso sta portando con la risacca a terra, quindi secondo me ritornerà a terra l'alga che il mare, cioè la natura riporta a terra quello che già c'era. Perché andare a abbandonare l'alga così sotto, secondo me è una cosa assurda. Si aspetta che magari l'ente comune arrivi anche per dare una mano, per sistemare un po' quello che è successo qui? Sarebbe una cosa meravigliosa per noi perché ci darebbe una mano anche a affrontare che non sono spese notevoli. Noi già abbiamo speso parecchi soldi perché devono venire i mezzi meccanici, perché fisicamente non riusciamo a pulire in tempo la spiaggia. Se viene qualcuno noi siamo lieti e speriamo, non so cosa dirle perché fino adesso non si è visto nessuno, neanche una telefonata o qualcosa, quindi non so cosa dirle su questo. Grazie per aver risposto alle nostre domande. Intanto noi continuiamo a guardare il fenomeno del Marrobbio che a Mazzara del Valle è imperversa già dalle 14 di ieri pomeriggio. Siamo soltanto nella mattinata, non è neanche mezzogiorno e intanto vediamo ancora il mare che si ritira e ritorna. Vedremo nelle prossime ore come andrà a finire. Grazie. Grazie. Grazie.